La video ricetta di oggi è torta di carote Grattugiamo le carote di polignano Ecco le carote di polignano grattugiate Separare gli albumi dai tuoli Mettere gli albumi nella planetaria Aggiungere un pizzico di sale Montare gli albumi Ecco gli albumi montati a nere Nella planetaria dove abbiamo montato gli albumi Mettiamo i tuoli Aggiungiamo lo zucchero E iniziamo a montare Dopo aver montato le uova con lo zucchero Dobbiamo aggiungere la farina di mandorle La farina normale e il lievito Passati tutti al setaccio Amalgamiamo delicatamente Aggiungiamo un po' di albumi La fialetta di rum E le carote E le carote Aggiungiamo ora buccia di limone grattugiato Gli altri albumi E amalgamiamo il tutto Delicatamente Ora mettiamo l'impasto In una teglia Imburrata e infarinata In forno a 180 gradi Per 25-30 minuti E per finire Una spolverata di zucchero a velo Arrivederci alla prossima videoricetta Grazie a tutti Grazie a tutti